Tutto questo tema secondo me è regolamentatorio, è super interessante, no? Questo è un po' il punto di partenza. Peraltro tu arrivi da KPMG. KPMG? Ma passare da KPMG... Ah, aspetta, una chicca vazzesca. Io feci un colloquio di lavoro in KPMG. Avevo tipo 25 anni, una cosa del genere. Quindi ormai 21 anni fa andai in KPMG a Milano davanti alla stazione centrale. Guardo la stazione centrale alla sinistra. Via Vittorio Pisani, sì, sì. Era lì, giusto? È ancora lì. È ancora lì? Andai a fare una sorta di colloquio di lavoro. Mi ricordo soltanto che non riuscì a capire che cosa facesse KPMG. Cioè il mio problema era, ma che cosa fate voi? Ma consulenza, ma di cosa? Tutto, quando tutto. Di tutto, ma in quali settori? Qualunque settore. Non riuscivo veramente a capire. E alla fine, insomma, mi hanno visto un po' incerto. Hanno probabilmente detto, meglio che non passi di qua. E anch'io ero molto incerto. Ma com'è passare da un posto così al mondo cripto? Come passare ad essere l'autista di un primo ministro a andare a fare la Formula 1. Veramente? Sì. È proprio un mondo totalmente diverso. No, è completamente diverso. Ma che cosa è diverso? Allora, tu pensa che una big four, ma può essere qualsiasi altra società che esiste, almeno KPMG è cent'anni che c'è in Svizzera. Ricordami le big four. Deloitte. Deloitte, Ersenian, PricewaterhouseCoopers e KPMG. Tra l'altro c'è il libro fuori sulle big four. Sì, perché ne hanno combinati anche comunque. Comunque tu sei in un ambiente molto strutturato. Sì. Formale. Dove hai delle regole, cioè le normative interne di come vengono gestiti i processi sono dei libroni grandi così. Ok. E sai esattamente qual è il tuo compito. Tu sei preso per fare questo punto e basta. Ok. Sì. Ha una società dove, ma dall'oggi al domani, ti cambia l'approccio. Dove ti alzi la mattina e, vabbè, anche in KPMG mi alzavo la mattina, non sapevo bene cosa facevo perché dovevo vedere cosa succedeva con i clienti. Ma qui veramente sei e ti dici, ok, arrivi, c'è il primo problema che entra, uno che ha fatto una cosa che non sa se è giusta o se è sbagliata, ma nessuno lo sa perché nessuno si è mai chinato sul problema. E dunque cerchi di mettere in piedi delle procedure da zero in un mondo che non ha mai avuto procedure. Certo. E dove, cioè, a me quando mi dicono scrivi le procedure, ma scrivo cosa? Non so nemmeno io cosa scrivere. Dobbiamo fare e mentre facciamo ci rendiamo conto, ah, se fai così è sbagliato, allora facciamo cos'ha. No, ma cos'ha però è questo problema, allora facciamo così. Ah, se fai così però c'è questa altra cosa. E dunque pian pianino, con l'esperienza, impari e metti in piedi queste procedure. Dunque passi da un mondo dove la zuppa è stata scaldata e riscaldata mille volte, non c'è più niente, quasi più niente che ti può sorprendere. L'unica cosa è, ah sì, questo... Sono piccole variazioni. Sì, piccole variazioni, magari grande, però sai come fare il lavoro a... Chiaro, mettiamo a inventare. Mi stiamo veramente facendo la nuova zuppa, mettendo dentro degli ingredienti che nessuno ha mai utilizzato. Io non so se metto questo ingrediente, se la zuppa mi va male. E com'è il rapporto anche, diciamo, con le istituzioni o il regolatore, quando c'è magari un tema da affrontare e uno dice, boh, come si fa a risolvere questa situazione? Che interlocutori trovi anche dall'altra parte? Allora, è molto personale. A volte troviamo degli interlocutori che stanno a sentirci e ci capiscono. A volte altri che sono molto, in tedesco, diciamo, stur, cioè molto... sono chiusi nel loro ambiente. Ottusi, mettiamo. Ottusi, perfetto. Grazie per la traduzione. L'esperienza che ho è così, è ambivalente. A volte sono soddisfatto, dico, cavolo che bello, ho avuto proprio una bella discussione, abbiamo parlato bene, vedo che ci capiscono. E a volte torno e sei delusissimo, diciamo, non è possibile, cioè, mi sembra di essere tornato, non so, io cent'anni fa a cercare di far capire alla gente che le macchine possono sostituire i cavalli, no? E che non hai bisogno, sai che quando le prime macchine sono arrivate sulla scena, dovevi avere un omino davanti alla macchina che con la bandiera rossa avvisava a tutti che stava per passare una macchina. Bellissimo. Ok, qui siamo, a volte mi sento l'omino rosso che fa andare la barriera. Una volta andai in Parlamento in Italia, mi chiamarono per fare un'audizione, era il tema del peer-to-peer, in pratica era uscito Napster, nessuno capiva niente, allora andai in Parlamento a fare un'audizione e a spiegare questo concetto. E mi ricorderò sempre, le facce dei parlamentari mi guardavano come se parlassi in aramaico e soprattutto le domande che poi hanno fatto dopo, se io le avessi filmate oggi avrei un canale YouTube con miliardi di visualizzazioni, perché c'erano delle chicche incredibili. D'altronde sai, quando uno è fuori da questo mondo ha un sacco anche di pregiudizi, no? Sì, questo è il grosso problema, soprattutto nel nostro mondo dove i giornalisti, devo dire, all'inizio, la notizia cos'era? Ah, esiste una moneta anonima, anonima chi la usano? I criminali. E infatti abbiamo anche la prova, guarda Silk Road, guarda questo, guarda questo, guarda quell'altro. E questo ha creato purtroppo una brutta, una cattiva rinomea per tutto quello che concerne le criptovalute. Io ti dico, onestamente, io sono il primo a riconoscerlo, io per anni mi chiedevo, quando sentivo parlare di Bitcoin, mi sono sempre chiesto ma chi è quel deficiente che contatta un certo signor Nakamoto in Giappone per farsi dare una criptovaluta che non può spendere da nessuna parte. Chiaro. Ok? Quando poi invece... E che cosa poi ti ha spinto invece a passare dall'altro lato della barricona? Allora, è un bel aneddoto, io ho fatto un lavoro per un cliente, un cliente tradizionale, un cliente soddisfatto del lavoro ma ha invitato a pranzo, ha detto guarda, vieni che ti invito perché... Allora abbiamo cominciato a parlare del più del meno e il cliente mi fa, sai last, devo dire una cosa, io dopo tutto quello che ho visto nella finanza tradizionale, hai visto anche tu il lavoro che ti ho fatto fare, i casini che ci sono eccetera, ho deciso di cambiare attività. Ho detto, diamine, allora cosa fai? E lui mi dice, mi sono lanciato nel fintech. Ok. E allora al fintech all'epoca c'era già, uscirono delle prime pubblicazioni anche statali, anche del governo, no? Su questa fintech. E io ho preso la palla al balzo e ho detto, senti, mi devi dire una cosa, perché tutti qua parlano di fintech, ma onestamente che cos'è la fintech? Perché io ho letto anche queste, però non capisco che cosa c'è di così innovativo in questa fintech. E lui mi ha detto una cosa che veramente, lì mi ha aperto, ma proprio avevo un velo così che mi ha chiuso e me l'ha aperto. Ok. Mi ha detto, allora guarda la stedì con un segreto, la fintech è il bitcoin. Ok. E lì proprio dire, scusa, quella cosa che vende un certo Satoshi Nakamoto in Giappone ai criminali. e mi ha detto, no, guarda, se vuoi ti organizzo un incontro con qualcuno che ti spiega come funziona il bitcoin. Ok. E lì, quando io ho risposto, ok, organizza, lì è cambiata la mia vita, no? Chiaro, a quel punto è lì. Peraltro diciamo, fintech è un macromondo gigantesco di cui cripto è una. Esatto. Allora, per me fintech, poi ho cercato di dare una definizione di fintech, perché secondo me tanta gente parla di fintech senza neanche sapere che cos'è. Io vedo, in fintech vedo la tecnologia blockchain, l'analisi dei big data e i robo-advisor, l'intelligenza artificiale. Chiaro. Queste tre componenti messe assieme mi permettono di creare un ecosistema che in maniera autonoma e automatica, senza alcun intervento umano, possono sostituire l'attività finanziaria. Questa per me è la fintech. Il fatto che oggi ci sia questo pregiudizio sul tema della regolamentazione, se io parlassi con qualcuno, esco per strada e chiedo, secondo te è regolamentato il mondo cripto, sì, no? La risposta è no, è un insieme, diciamo, di banditi che girano con le loro cripto cose e si diffondono nei meandri del web e si distribuiscono, si scambiano i loro bitcoin. La verità è che, non in tutti i paesi, però in alcuni paesi c'è oggi regolamentazione, se io prendo, adesso parlavo con Natale per il gruppo che fa appunto Eidu, avete una marea di oneri, leggi, normative, è un casino mica da ridere, insomma, e quindi c'è molta regolamentazione in realtà, in alcuni settori per alcune realtà. Come funziona oggi, se tu dovessi dare una fotografia sincera? Allora, sincera che, primo, dipende un po' da paese a paese. Ci sono dei paesi come la Svizzera che hanno adottato da subito un approccio che hanno chiamato fintech neutrale, ovvero, dicono, io prendo delle leggi già esistenti, magari delle leggi che erano già presenti prima dell'avvento della blockchain, e le applico a una cosa nuova, totalmente nuova, che è la blockchain. Questo, da una parte, ti crea sicurezza giuridica, perché tu hai delle leggi che puoi applicare a una cosa completamente nuova. Da una parte, dei limiti, perché se all'inizio eravamo tutti contenti perché avevamo un 50, un 60% dell'attività che era regolata, ora ci rendiamo conto che abbiamo un 10, 20% dove veramente c'è una lacuna. La legge che abbiamo non è sufficiente. Ed è per questo che adesso anche la Svizzera vuole fare una legge sulla blockchain. Altri paesi non hanno adottato questo approccio iniziale fintech neutrale, dunque hanno magari avuto più difficoltà all'inizio, perché non si sapeva come cavolo regolare queste attività, però oggi hanno, stanno emettendo una legge specifica, la legge sulla blockchain, la legge sugli asset digitali e quant'altro. Penso a Malta, penso a Liechtenstein. Che creerà questa sicurezza giuridica. Dunque, abbiamo questo, più il tempo passa, diciamo, più abbiamo delle normative che entrano in vigore e che mi aiutano, mi facilitano nella mia attività. Il problema è che, di nuovo, anche il regulator sta facendo una normativa senza conoscere bene la tecnologia. Questo noi lo vediamo. Vediamo che a volte parlano, ma non sanno esattamente come funziona. Qual è il paese, secondo te, più avanzato, illuminato e invece i paesi dove proprio è Far West? Allora, più avanzato e illuminato. A me piace tantissimo la normativa del Liechtenstein. L'hanno scritta veramente bene. Malta si è lanciata anche lei molto bene, le normative sono fatte bene, però Malta, anche Liechtenstein è un paese piccolino, però Malta è un po' isolato. Ho sempre un po' paura di cosa succede se andiamo tutti lì. Noi, sia con il nostro gruppo, siamo a Malta, ma siamo tra i primi, dunque riusciamo ancora a gestire la cosa. Ma se questa legge dovesse attirare tantissime aziende, Malta non penso che è un ecosistema che è in grado di sostenere. Un po' come l'Irlanda ai tempi per i colossi. Esatto. Anche Liechtenstein è piccolo, però almeno Liechtenstein non ha il mare di fianco, ha degli altri paesi di fianco dove la gente può abitare lì e poi trasferirsi in Liechtenstein. Gli Stati Uniti... Malta potreste mettere tutti i dipendenti sulle barche fuori, capito? Come si usa... adesso c'è tutto il progetto per fare questi ecosistemi tax-free negli oceani, capito? Ok. Comunque... I grossi Stati Uniti, Cina... Gli Stati Uniti la stanno giocando, secondo me, tra il migliore dei modi, perché internamente l'impressione che ho è che stanno favorendo tantissimo l'ecosistema. Noi vediamo di quelle applicazioni, di quelle società che fanno di quelle cose che in Europa sarebbe molto difficile da fare. Perché? Perché gli Stati Uniti sanno che questa tecnologia gli porterà un grande vantaggio economico. Lo sanno talmente bene che le banche statunitensi stanno cercando di bloccare l'espansione di questo ecosistema negli altri paesi. Uno dei maggiori problemi che noi abbiamo sono l'apertura delle relazioni con le banche. E quando io parlo con le banche, le banche mi dicono anche... Ah, è interessantissimo quello che fate. Siamo convinti che siete il futuro. Ma se io ti accetto come cliente, il questionario della mia banca corrispondente statunitense che uso per le mie operazioni in dollaro, c'è dentro una domanda se io ho clienti... Se io apro conto per clienti attivi con le criptovalute. E se rispondo di sì, allora mi fanno una due diligence supplementare e c'è il rischio che perdo la mia corrispondente americana e perdo le operazioni in dollaro. Davvero? È così. Dunque, gli americani al loro interno accettano tutto. Se tu guardi, le più grosse società cripto sono in America. Sì. All'esterno le stanno combattendo. Wow, ok. Esatto. Dunque, gli americani... Questo secondo me è il segnale, se vuoi... Interessante. Che veramente ci credono. Ci credono e spingono e vogliono creare il vantaggio competitivo. L'altro paese di cui si parla poco... È l'Italia. No. Forse l'Italia. Mi dispiace per l'Italia. Me l'aspettavo su questo ultimo. È la Francia. La Francia. La Francia. La Francia si sta aprendo tantissimo all'ecosistema. Stanno facendo leggi ad hoc. Hanno i ministri che vanno pubblicamente a dire che vogliono fare le leggi a favore delle ICO, fare le leggi a favore dei fondi in cryptocurrency, eccetera. Lì la domanda della Francia sarà vedere se queste normative saranno così innovative da superare questa resistenza iniziale. Allora, la parte di là invece è Asia, Cina, Giappone. Allora, guarda, essendo europeo chiaramente non ho tanti contatti con l'Asia. Ho dei clienti asiatici. A me sembra che il Giappone si sta muovendo nella giusta direzione. Lo sai anche tu. Sono stati tra i primi a regolamentare l'exchanger, a riconoscere il bitcoin come anche moneta per i ripagamenti. La Corea mi sembra invece più incasinata. Tant'è che io ho tanti clienti coreani che vengono in Svizzera a fare l'ICO. Ok. Ok. Dunque sanno che farla in Corea, la Corea è molto... In Corea abbiamo forse una società che è molto tirata dalle cripto, ma il governo che non è riuscito a prendere questo movimento, incanalarlo in una struttura regolamentare chiara, definita. La mia sensazione è che ad oggi probabilmente un'azienda che lavora in questo settore debba avere una presenza su più paesi per poter operare correttamente, avere una licenza magari in un certo paese, avere un altro paese che ti aiuta per fare la parte di online banking. Questo è comunque un problema che hanno le società finanziarie, non è tanto legato al fintech, anzi il fintech me lo risolve questo problema in parte. Fintech infatti a Londra abbiamo miliardi di aziende fintech. Perché se io faccio la fintech, il concetto è che se io faccio la fintech io offro un'applicazione a cui la gente può accedere da ovunque nel mondo. Nell'attività finanziaria tradizionale se tu vuoi aprire un conto in banca dovresti spostarti andare a incontrare l'intermediario. Chiaro, adesso anche la finanza tradizionale diventa via via più telematica. Però c'è questa idea di spostamento. Revolut, miliardi di bambini. Se io vado a fare pubblicità in un altro paese, è chiaro che devo avere le autorizzazioni di questo paese. Se come una Revolut, cioè Revolut vive molto del passaparola, cioè io non ho mai visto una pubblicità all'aeroporto Revolut, arriverà la pubblicità all'aeroporto di Revolut, ma per il momento è passaparola. Ci fu TransferWise che è il servizio di trasferimento fondi se devi fare dei benefici internazionali e ti fanno delle condizioni migliori rispetto a quelle delle banche, che è inglese, e fecero invece la pubblicità nell'aeroporto di Londra. Inglese su inglese, però non li ho mai visti fuori. Se io come società svizzera andassi per il nostro wallet, per esempio, per il nostro exchanger, fai che per il nostro exchanger vado a fare una pubblicità in Italia, non posso escludere che la Consop inizia a dirmi, ah ma tu stai, hai preso di mira o stai offrendo un servizio in Italia a investitori o utenti italiani, non sei regolato in Italia, non sei regolato neanche in Europa, vabbè, solo il exchanger a Malta non sarebbe regolato in Europa, comunque devi avere il passaporto, non ce l'hai e dunque non ti permetto di farlo, infranto qualche normativa. Questo è il rischio, perché l'attività finanziaria è molto regolata, a protezione dei clienti. Ma come fai a svincolarti, a riuscire a trovare la giusta strada tra mille normative diverse, di mille paesi diversi, in tanti settori su cui poi magari neanche c'è la norma giusta, qual è il consiglio anche che tu daresti a chi si muove in questo settore per non fare cazzate? Guarda, vorrei prima specificare una cosa, ho letto uno studio di KPMG poco tempo fa. Tu leggi solo studio di KPMG? No, levo anche quelli degli altri. Che mi diceva che i capi d'azienda e i CEO ormai stanno prendendo decisioni di pancia, perché il mondo in generale, ti dimentica l'eclitto, ma in generale è diventato così complesso che anche qualcuno attivo nel mondo tradizionale che fa, non so, il commercio, tra tutte le normative che deve applicare si perde e a un certo punto prendono decisioni di pancia. Da noi è, come dici tu, ancora un po' più estremo, perché le normative non ci sono, o meglio, devi applicare delle normative che non sono state fatte per attività che fai tu e non sai mai se le applicheranno oppure no. C'è molta interpretazione. Non c'è prassi, c'è molta interpretazione e non c'è una prassi che ti permette di dire se faccio così sbagliato, se faccio così giusto. Tu fai in quel modo pensando che sia giusto e sperando che sia giusto. Allora, il consiglio che do è di ragionare per principi, magari staccarti un attimino dalla tua funzione, metterti nel panni dello user, dell'utente, magari anche del regoletto e dire, ok, da un punto di vista etico, quello che sto facendo è giusto o è sbagliato? Se sei sul giusto da un punto di vista etico, se tu dici io non ho nessun problema e non mi vergogno adesso ad andare al telegiornale e a raccontare che sto facendo questa cosa qua. Probabilmente se ne è giusto. Se incominci a dire, no, posso andare a dire a tutti che stiamo facendo questa roba qua, forse non mi sento così tranquillo, forse stai facendo qualcosa che potrebbe essere qualificato come errato. Il prossimo anno a Naso arriverà ancora più regolamentazione. Secondo te che cosa verrà regolamentato più in assoluto del mondo cripto? O su cosa c'è bisogno di maggiore regolamentazione se c'è bisogno? Tu prima hai detto che il sentimento che non ci sia regolamentazione, però ti sei reso conto che in realtà c'è regolamentazione. Quello che mi aspetto per l'anno prossimo è una regolamentazione più ad hoc. Quello che ti dicevo prima, siamo partiti da un approccio generalista, one size fits all, e adesso dobbiamo dire, no, attenzione, cryptocurrency e blockchain hanno dei processi che per di più sono a favore degli utenti, che sono esattamente il contrario della finanza tradizionale, perché io non ho più l'intermediario, non ho più qualcuno che tiene i miei averi per mio conto, che se questo qua fa i miei averi fa qualcosa di sbagliato, fallisce, non so io cosa, io perdo i soldi. I soldi ce li ho io, sono i miei, sono sul mio wallet centralizzato, il controllo io. Allora, in questo caso le normative, a mio avviso, devono cambiare, devono prendere in considerazione questa situazione e essere adeguate a questa situazione. Mi aspetto quasi un alleggerimento rispetto alla finanza tradizionale. Poi possiamo avere anche una situazione dove io, invece di avere un wallet decentralizzato, un wallet centralizzato, dunque funziona come la finanza tradizionale, soltanto sulle criptovalute, ok, bene, però il fatto che le criptovalute per esempio sono tracciabili può facilitare tutti gli obblighi di riciclaggio di denaro, dunque magari anche lì delle normative un po' più ad hoc. Il fatto che comunque le criptovalute hanno tendenza a diventare anonime, adesso anche con Lightning Network, bene, di magari anche lì delle normative un po' più ad hoc su come fare, perché comunque gli stati non permetteranno mai operazioni anonime. Dunque, se l'operazione diventa anonima, allora ci dovrà essere un altro elemento che verrà identificato. Su questo sono abbastanza convinto, non perché lo voglio, ma perché penso che gli stati questo non lo permetteranno mai. E come ti sembra che reagisca la finanza tradizionale, i tuoi colleghi, ex colleghi che lavorano magari in quel settore, come reagiscono? Vedi più cambiamento o vedi sempre una forte resistenza? Allora, la prima volta che sono andato in giro a parlare di Bitcoin e di criptovalute nella finanza tradizionale, vedevo curiosità misto a incredulità, onestamente. La gente mi chiedeva come, ma perché, però lo capivi che c'è un malato. L'azza, un colpo di testa. Esatto, preso il colpo di sole, no? Quando poi di tu ho annunciato che lasciavo KPMG per entrare in Poseidon, figurati. È andato, è andato. Alla crisi, capito? Esatto. Però, devo dirti, ricevo sempre più contatti e richieste di persone che vogliono entrare in questo mondo. Settimana scorsa, un mio ex cliente che faceva il commerciante per il proprio conto, è ritornato da me. Ah, lo capito, si ricorda, abbiamo lavorato, cercato di lavorare insieme. No, sono qua perché noi adesso con le obbligazioni facciamo pochissimo e ci siamo lanciati con le cripto. E ci piace tantissimo. E dunque, è questo il bello. Cioè, vediamo quando attori della fidanza tradizionale entrano nel mondo delle criptovalute, aiutano a creare un ecosistema che è quello che manca adesso. Siamo veramente troppo pochi ancora per permettere agli istituzionali di entrare. Ma ogni giorno ce n'è uno di più. Dunque, tu ogni giorno, io vedevo la gente che mi rideva addosso perché vedevano le criptovalute crollare. E io quindi dicevo, ma no, ogni giorno c'è uno in più che entra nel mondo delle criptovalute, un attore che porta veramente valore. E dunque non si rende uno conto che, vabbè, non è il corso delle criptovalute che fa l'adozione, ma è quante persone hai che iniziano veramente a entrare in questa scena. E questo numero continua a salire. E questo che mi dà l'ottimismo di dire, stiamo quasi per arrivare al momento in cui tutti gli istituzionali interranno nel mondo delle criptovalute. Peraltro, se uno guarda la parte tecnica, io parlavo con un amico che fa lo sviluppatore, diceva, guarda, è incredibile come fino ad oggi, se tu sviluppavi qualche cosa per una piattaforma tipo, non so, Facebook o Twitter o questi qua, sì, tu sviluppavi la tua app, poi un giorno si sveglia Mark Zuckerberg e dice, no, basta, chiudiamo l'accesso, chiudiamo l'API e tu chiudi l'azienda. Invece, nel momento in cui, lui diceva, sviluppo per, non so, Ethereum o per una particolare iniziativa legata al mondo blockchain, io sono parte dei benefici. Per cui non c'è un soggetto centrale che dice, tu da domani stai a casa. Ma io anzi ho un interesse a sviluppare, avere parte di quella criptovaluta legata a quell'iniziativa e ho tutto l'interesse al fatto che il progetto funzioni. Quindi ho un vantaggio distribuito e poi se lo sviluppatore è dentro, arriva anche l'imprenditore, perché l'imprenditore dice, ah ok, allora crea un'azienda intorno a questo, arrivano gli investitori perché l'imprenditore, e via. E quindi si crea questo volano positivo poi. Esatto, guarda, io sono convinto che ci saranno shift culturale nella prossima generazione. Lo vedo già con i miei figli. La prima cosa che cambia è il concetto di proprietà. Io sono nato con questo concetto, volevi possedere, volevi avere la maglietta 3 di moda, il cd, la macchina, il motorino, il tuo motorino, la tua macchina, la faccia di quello che volevi. Oggi la musica, cioè i miei figli non hanno il cd, io avevo le cassette, ok, ma non ci hanno più. Con il nastro. Con il nastro, dovevi abitare con la nostra femmina. Oggi le senti su Spotify, ce le hai, non è tua la musica, semplicemente la scarichi. Idem per i film. La macchina, l'Uber, cioè io sono convinto che mio figlio quando sarà grande, magari la mattina si alza e dirà adesso noleggio una Fiat Punto per andare a lavorare, perché stasera esco con la tipa e voglio noleggiarmi la Porsche per fare un po' il blagone, per andare con la ragazza. Il vagone si dice? Il blagone, no? Il blagone, bellissimo. Queste sono quelle cose alla Svizzera. Questo gergo svizzero. blagone? Sì, blagone. Blagone me la riuso, ok. Per cui cambia il concetto. Esatto, il secondo è quello che hai detto tu, quello della decentralizzazione. Cioè, noi passeremo, e che è molto più complesso, perché io cercare di far capire ai miei genitori la decentralizzazione è una mission impossible. Dunque, far capire che io, essendo parte di un grosso meccanismo che funziona senza un ente centrale, è molto meglio che essere controllato da un ente centrale che, come dici tu, dall'oggi al domani succede qualcosa, questo qua io perdo tutto. È uno shift mentale molto difficile. Lo è stato per me. Io ci ho messo un anno a capire che cosa vuol dire la decentralizzazione. Ci sono delle persone che, sono convinto, non ci arriveranno a capire che cos'è la decentralizzazione. È quasi, è veramente, io la vedo come un'evoluzione anche dell'umanità, a passare da una società centralizzata a una società decentralizzata. Certo. Però, ancora una volta, tu decentralizzi se hai la sicurezza che le cose funzionano, e quindi sai che le regole sono chiare, sai quali sono le regole, sai che vengono applicate correttamente, e quindi anche la parte, diciamo, normativa e regolamentatoria diventa fondamentale, insomma, a questo punto di vista. Esatto. Però, attenzione, che in realtà quello che io vedo di più è che queste regole vengono fatte tra i privati. Cioè, pensa anche tu, la blockchain, o pensa alla blockchain bitcoin, il protocollo bitcoin. Cioè, sono gli utenti che ti dicono che devono mettersi tutti d'accordo per cambiare il protocollo. Certo. Ok? Dunque, quello che succederà nel mondo decentralizzato è che avremo le regole di uso della decentralizzazione, che nel mondo centralizzato è il contratto. Il contratto che io faccio con te sarà un contratto con diverse parti, con tutti. E tutti noi useremo questo contratto. Poi, il regulator mi darà delle normative che dirà quali sono i limiti dei contratti che possiamo fare tra di noi. Mi dirà, per esempio, il KYC in questi ambiti è obbligatorio. Mi dirà, tu determinate, non so io, attività non le puoi fare. Non puoi vendere determinati beni. Non puoi andare a commercializzare in droga, per esempio. Questi mi daranno dei limiti. Cioè, la cornice. La cornice. Però il dentro, come lo scrivo, lo scriverò io in contratti decentralizzati. E questa è la grande differenza. La fiducia io l'avrò, non perché io faccio un contratto con te e credo in tre, ma perché io so che siamo in 100 persone che partecipano a questo contratto decentralizzato e penso che non ci saranno mai 51 che sono di mala fede. La maggioranza sarà sempre di buona fede e rispetterà il contratto. E questa sarà la mia sicurezza. L'assi. Vado a fare il blagone allora. Vai, vai a fare il blagone. Grazie. 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 Grazie a tutti.